Un cordiale saluto da Andrea Biagioni di Florence Multimedia per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dal raccordo Sena-Firenze dove a causa di lavori è stato chiuso il tratto tra San Casciano e l'allacciamento con la 1 Firenze in Pruneta con uscito obbligatorio a San Casciano e code tra Bargino e San Casciano in direzione Firenze. Passiamo alla FIPILI dove a causa di un incidente si registrano 3 chilometri di coda tra Santa Croce sull'Arno e Montopoli-Valdarno in direzione Livorno. A causa di lavori invece 3 chilometri di coda tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Livorno e un chilometro in direzione Firenze. Da segnalare a causa del traffico intenso anche code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze e rallentamenti tra Scandicci e Firenze-Scandicci verso Firenze. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!